ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube il 6 giugno 2022 al costo del 12 euro e 99 ho comprato questo misuratore digitale di profondità o calibro di profondità o profondimetro chiamiamolo come vogliamo serve a misurare la profondità di alcuni fori e l'altezza di qualcosa che vogliamo misurare ad esempio lame oppure la fresa di una fresatrice e tanto altro oggi voglio farvi vedere come funziona faremo un paio di test per vedere soprattutto la sua precisione già ne possiede una della su tante volte mi sono ripromesso di recensirlo ma non ho mai trovato il tempo questo ce l'ho qua nel laboratorio l'altro è nel garage quindi approfittiamo vediamo appunto come funziona e soprattutto ripeto testiamo la sua precisione quindi mettiamolo sul bancone e vediamo come va iniziamo e allora innanzitutto viene venduto all'interno di questa scatola troveremo un contenitore in plastica rigido questo è messo in questa posizione al momento dell'acquisto e troveremo anche il manuale istruzioni scritto anche in italiano sulla destra vedete il classico calibro questo è un calibro digitale voglio fare alcuni esempi per dimostrarvi che comunque alcune misurazioni possono essere seguite anche con questo tipo di calibro ma vediamo quello che troviamo scritto sulla confezione innanzitutto in alto c'è scritto che troverete all'interno una batteria io personalmente non l'ho trovata ho utilizzato una batteria che già possedevo come tutti gli utensili della parkside a tre anni di garanzia vediamo cosa c'è scritto nella parte posteriore allora misuratore digitale di profondità per la misurazione della profondità di fori fresature tagli fughe o profili di pneumatici con supporto stabile e piedini con magnete regolatore di misura con vite di fissaggio punto zero regolabile ad ogni misurazione di profondità tramite il reset modalità inch oppure abs selezionabili in base alle nostre esigenze a scelta valore di misurazione in millimetro pollici oppure in quarti di pollice quindi decimali e frazioni spegnimento automatico dopo circa cinque minuti di inutilizzo incluso misuratore di fori custodia istruzioni appunto e batterie che io non ho trovato l'intervallo di misurazione con lo spazio va da zero fino 80 millimetri oppure lo stesso equivalente in pollici l'intervallo di misurazione del foro invece va da zero fino a 50 mm con una precisione di 0,1 mm risoluzione come decimali 0,05 mm poi altra informazione sulla sicurezza e tenere lontano dalla portata dei bambini ma vediamo come funziona e come fatto allora è tutto in plastica a un display nella parte centrale il tastino di blocco il tasto di accensione il tasto per variare l'unità di misura e il tasto per variare da inch ad abs questa è la sticella scorrevole che ci permette di eseguire le misurazioni la stessa riferimento in millimetri sulla parte sinistra e in pollici e frazioni di pollici sulla destra questo è l'accessorio che serve a misurare la profondità questo è l'alloggiamento per la batteria si apre in questo modo si inserisce la batteria dopodiché si richiude una volta inserita si accenderà in automatico e ci mostrerà la misurazione 0 quindi dovremmo azzerarlo prima di utilizzarlo quindi accendiamolo e vediamo direttamente come funziona allora si accende dal tastino con scritto on off una volta acceso apparirà immediatamente alla misurazione corrispondente in questo caso a zero perché l'avevo già azzerato vediamo innanzitutto la sua precisione quindi voglio vedere se muovendo più volte in alto e in basso la sticella riportando la fine corsa mi mostrerà ancora 0 quindi alziamo abbassiamo sia con parti intermedie che fino all'estremo in alto e l'estremo in basso facciamolo più volte facciamolo cadere senza urtarlo esageratamente ok riportiamolo in basso dovrebbe darsi zero e ci da zero un'altra cosa che mi è piaciuta è che se io la spengo e lo porto al massimo mi dà la misurazione comunque come se io l'avessi fatto mentre è acceso quindi funziona il sensore all'interno anche se il display non è acceso riportiamolo di nuovo a zero e mi da zero perfetto quindi come precisione ci siamo questo sulla destra serve a bloccarlo quindi se noi abbiamo preso una misurazione vogliono mantenere ferma la plastina basterà avvitarlo e la stessa rimarrà ferma quindi ci consentirà di bloccarlo esattamente come si fa con il calibro quando vogliamo bloccarlo con un'apertura prestabilita allora adesso passiamo alle misurazioni vere e proprie e facciamo un paio di esempi allora solitamente si utilizza per misurare l'altezza per esempio della lama di una sega circolare oppure l'altezza la sporgenza di una fresa da una fresatrice facciamo per praticità l'esempio proprio con la fresa su una fresatrice questa tra l'altro ve lo già recensita vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione allora torniamo a noi dobbiamo prima di tutto azzerare il misuratore come vedete in questo caso tocca prima la sticella e piedini sono sollevati quindi se io poggio andiamo ad 1 e 75 in questo caso dovrei azzerarlo per poter azzerare basterà premere semplicemente il tasto di accensione a questo punto avendo la misura perfettamente a zero possiamo fare scorrere la nostra fresa verso l'esterno e decidere quante escursione debba avere ipotizziamo che noi vogliamo fare una fresatura di 5 mm quindi lo facciamo scorrere verso fuori ok siamo andati un pochettino oltre quindi torniamo un pochettino verso il basso fino al raggiungimento dei 5 mm ok in questo caso avrò 5 mm come escursione avrò la sicurezza della mia fresatura avrà quella profondità lo stesso tipo di utilizzo si può fare ovviamente con la lama della sega circolare basterà appoggiarla sulla superficie della banco sega far fuori uscire la nostra lama fino a raggiungere l'altezza che ci interessa considerate che 80 mm linea di massima è l'altezza raggiungibile un po da tutte le seghe circolari ma può essere utilizzato anche per misurare la profondità ad esempio di alcuni fori facciamo la prova misurando la profondità di questo foro realizzato con una punta fortner allora per poter prendere questa misurazione come vedete in questo caso non riuscirei ad arrivare in fondo quindi posso utilizzare questo accessorio che va messo sia si può utilizzare da questa parte e lo stesso tipo di incastro lo troviamo sulla parte alta quindi dobbiamo azzerarlo nuovamente prendendo la misurazione in questo modo quindi premiamo una volta dopodiché andiamo verso il basso e prendiamo la profondità del foro realizzato meno 12 e 80 quindi abbiamo la profondità di questo foro che volendo possiamo ripetere anche da quest'altra parte per avere una profondità identica ma possiamo utilizzarlo per esempio per misurare anche piccoli fori questo l'ho realizzato appositamente con una punta di trapano quindi conviene azzerare ogni volta che si fa una misurazione anche se ci si sposta di poco perché potrebbero esserci degli avvallamenti oppure delle irregolarità oppure come in questo caso una piccola sporgenza con questi trucioli andrebbero ad influire sulla misurazione quindi se noi prendiamo una misura da questa parte e lo azzeriamo e poi ripetiamo da questa parte come vedete c'è differenza perché in questo caso il piedino era leggermente più sollevato quindi lo azzeriamo da questa parte e prendiamo la misurazione con la profondità di questo foro e abbiamo 16 e 70 come vi ho detto poco fa lo stesso tipo di misurazione si può ottenere anche con il calibro perché tutti i calibri hanno questa astina che ci serve a misurare appunto la profondità quindi una volta misurato però come vedete non è molto pratico abbiamo 16 e 83 però abbiamo questi piccoli movimenti che vanno ad influire guardate come varia man mano che lo muovo quindi non è proprio il massimo tra l'altro proprio per via di queste trucioli che si sono formati dato che la battuta sarebbe proprio da questa parte la superficie dovrebbe essere perfettamente dritta in questo caso invece saremmo abbastanza lontani da evitare che i piedini vengano interessati da zone non regolari ma può essere utilizzata anche per misurare la profondità di alcune fresature in questo caso per esempio con questa fresatura così lunga può succedere durante la lavorazione che spingendo la fresatrice si faccia questo movimento quindi in alcuni punti potremmo avere delle profondità differenti e se poi noi vogliamo inserire all'interno di questa scanalatura uno spessore di 10 mm in alcuni punti potrebbe sporgere quindi potremmo verificare la correttezza di questa profondità semplicemente con questo misuratore come faremmo allora la zeriamo andiamo quindi sullo 0 e facciamo la prima misurazione da questa parte abbiamo 9 e 75 quindi da questa parte non ci siamo andiamo un pochettino più avanti abbiamo addirittura 9 60 spot stand orci ulteriormente avremo 9 e 55 quindi c'è mezzo millimetro di errore che non mi permetterebbe di inserire al suo interno un pezzo da 10 mm vediamo adesso l'utilizzo della funzione in allora possiamo semplicemente a zerare il nostro misuratore di profondità in questo modo quindi senza interessare nessun altro oggetto andiamo su 0 già a zerato e misuriamo quindi lo spessore ad esempio di questo accessorio che viene dato per la misurazione della profondità in questo caso abbiamo un'altezza di 4 e 25 ma se volessi vedere la differenza di spessore tra questo accessorio e questa punta di trapano potrei andare su inch a questo punto avrei lo 0 misurerei la differenza quindi 570 e se premessi di nuovo abs avrei di nuovo la misura totale quindi l'altezza da zero fino alla punta di trapano 9 e 95 voglio vedere a questo punto facendo la prova del 9 a tornare a misurare questa questa l'accessorio quindi la differenza che c'è fra la punta di trapano e l'accessorio premiamo di nuovo inch andiamo verso il basso e a questo punto avrei meno 5 e 65 premendo di nuovo inch avrei la misurazione di poco fa mi sono mosso leggermente quindi c'è 0,05 di errore era 4 e 25 adesso siamo a 4 e 30 quindi serve a fare la differenza tra una misurazione ed un'altra e ogni volta che lo premeremo avremo lo 0 si azzerà in automatico tornando per una bs avremo sempre la misurazione corretta è quello che mi piace ripeto il fatto che anche alzandole abbassandolo più volte avremo sempre la stessa misurazione quindi alzando al massimo adesso avremo 83 e 15 anche muovendolo e muovendolo velocemente in questo modo andando di nuovo al massimo avremo 83 e 15 e allora adesso facciamo un'altra prova come vi ho detto riesce a misurare i millimetri in pollici e infrazione di pollici quindi azzeriamolo questa è una punta esagonale da un quarto di pollice la punta all'inserto per gli abitatori ok abbiamo 6 e 25 se variamo l'unità di misura abbiamo in questo modo la misura in pollici e in questo modo ci dà un quarto di pollice quindi la punta e da un quarto di pollice esagonale non avevamo dubbi però in questo modo abbiamo la conferma che la misurazione sia corretta un quarto di pollici sulla base dei piedini ci sono dei magneti e questo ci permette di utilizzarlo per esempio sui banchi sega essendo in metallo riusciamo a poggiarlo sulla superficie e questo ci permette di sollevare la lama mantenendo lo stesso misuratore poggiato in modo fisso sulla superficie addirittura anche messo sotto sopra e tirando rimane comunque attaccato al metallo quindi volendo si potrebbe mettere in questo modo sulla superficie del banco sega e sollevando la lama riusciremo a prendere la misurazione ma ricordatevi sempre di controllare che sui magneti non ci sia nulla che vada ad interferire altrimenti questo altererebbe la misurazione perché creerebbe spessore quindi poi le misurazioni verrebbero falsate e allora ragazzi quindi cosa dire di questo calibro di profondità innanzitutto è preciso e funziona bene come avete visto anche smuovendo lo agitando le colpendolo continua a dare la misurazione corretta se noi prendiamo una misurazione si dovesse spegnere alla riaccensione avremmo comunque ancora la taratura che abbiamo dato quando lo abbiamo azzerato quindi non è necessario andarlo a ritarare ogni volta comodissima la possibilità di fare le misurazioni relative a quelle che abbiamo già utilizzato con il tasto inch e abs cosa dire anche la misurazione in quarti di pollici insomma davvero abbastanza completo e ci permette di misurare profondità misurare altezze spessori eccetera qualcosa si può anche fare con il calibro classico ma sicuramente non avremo la stessa precisione la stessa praticità che ci offre questo dispositivo detto questo non mi resta che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile comunque vi abbia tenuto compagnia vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti in modo da attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto